Un partito senza correnti e questo è il tema di fondo che da più parti viene proposto in vista del prossimo congresso nazionale del PD programmato a febbraio. A prendere posizione in tal senso anche un gruppo di ex amministratori e dirigenti molisani, tra questi il sindaco di Ferrazzano Antonio Cerio e l'ex sindaco di Molise, presidente della comunità montana Molise Centrale e il dirigente di partito Nicola Messere. E' arrivato il momento, dicono, di smontare l'attuale PD e costruire una casa dei riformisti che abbia una visione ben determinata della società. Prima di rappresentarla, dicono, una società deve essere costruita attorno a temi concreti e sentiti dalle comunità. Vogliamo un partito, sostengono gli attivisti molisani, dove si possa coltivare una classe dirigente innanzitutto libera, capace di interpretare i bisogni, le esigenze, i dubbi, le preoccupazioni dei cittadini senza dire signor sì a qualcuno. La presa di posizione così espressa mette il dito in una piaga, quella del correntismo interno al PD, dove, come si evince dalle parole degli amministratori e dirigenti in questione, che parlano anche di comitati elettorali e capi bastone, il signor sì ha vissuto una stagione ormai giunta al capolinea. I due principali aspiranti alla segreteria nazionale del partito, il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini e la parlamentare Ellie Schlein, hanno entrambi detto che intendono superare il correntismo interno. Il paradosso, tuttavia, è che a queste dichiarazioni le varie correnti, Orlando e Franceschini in testa, hanno cominciato a riposizionarsi. Insomma, la strada da qui a febbraio è ancora lunga per il PD. Intanto domenica a Termoli arriva Stefano Bonaccini. Grazie a tutti.